Nella nostra cucina non c'è più fiamma, questo è un motivo ancora migliore, a parte il clima che sicuramente è molto più fresco perché non avendo fiamma si respira un'aria migliore, meno calda e meno priva di ossigeno e poi comunque la stessa fiamma può essere pericolosa, però il pericolo c'è sempre perché basta versarsi una pentola addosso di olio bollente e il gioco è fatto. Grazie